Una vera lezione di economia politica sul mezzogiorno è stata tenuta dall'economista il professor Cesare Imbriani, in un dibattito tenutosi presso l'Università della Calabria sui temi della famiglia, lavoro e una rinnovata questione meridionale. Anche se il rapporto Svimez 2017 ha messo in evidenza un trend di crescita per le regioni del meridione, che in qualche modo hanno agganciato la ripresa, vi sono però purtroppo nuovi volti del dualismo nord-sud, quello del reddito e quello demografico ancora più preoccupante. In questo momento il meccanismo dell'arretratezza territoriale del mezzogiorno è cambiato, non è più un problema di risorse ma è un problema di gestione della risorsa e quindi un problema di gestione della risorsa richiede una progettualità politica forte e richiede poi un meccanismo di autogoverno, quindi le risorse ci sono, come le utilizziamo e a che fine. Questo è il problema che si riflette essenzialmente in due criticità, una criticità è l'occupazione giovanile, l'altra criticità è il depauveramento del capitale umano, col fatto che molti giovani, i laureati soprattutto, escono praticamente dal circuito produttivo del loro territorio. Conoscenza, innovazione ma anche programmazione a lungo raggio, infrastrutture, accesso al credito, cinque priorità da mettere in campo per la crescita e lo sviluppo di questa regione e come risposta alla definitiva uscita dalla crisi. Che cosa fare? Beh, in questo momento agganciarsi senz'altro alla ripresa nazionale, e questo è un dato di fatto, e poi praticamente gestire in maniera da usufruire delle sinergie di questo sviluppo. Un esempio, occuparsi di digitalizzazione e occuparsi per esempio di industria, ci fa venire in mente la grande politica industriale che in questo momento si sta facendo, la famosa industria 4.0. Non basta perché le istituzioni devono essere, come dicevo, supportive. La politica, le istituzioni, che gioco rivestono? Quello è il ventre molle veramente del problema, perché praticamente la politica, se non fa progettualità, non fa progettualità concorde, non riesce a dare praticamente un supporto effettivo a questo sviluppo. Quindi stabilità politica, concordia negli obiettivi, e poi soprattutto, ove, e questo normalmente è giusto da un punto di vista democratico, vi fosse un cambio politico, mantenimento degli obiettivi. l'estituzioni, non riesce a vedere, se quiero irrire, e poi sono tutti touti, tanto è come bellissime, S. rewarded o